A tutti i salutatori, grandissima sorpresa, il grandissimo Marco Baldini. Ma avessi detto Papa Francesco, insomma. Papa Francesco è grandissimo, ma tu sei un grande, sei tosso, sei grande. Una domanda, ma se la metti nell'acqua questa camicia, ci fai il tè? Ah, mi sai che è saporita. È saporita. Ottima idea. Camicia croccante. Croccante, a vogliana e stiva. E stiva. Ecco qua, allora, il nuovo programma, sei organizzando qualcosa? Se non sbaglio, di talent? Avrei iniziato da tre settimane, in realtà, però, sì, ancora non se ne parla. Canale 88, su Roma, dalle 10 alle 12 del mattino, Baldini si nasce. Ecco qua, Baldini si nasce, qualcuno lo può diventare, potrei ambire a diventare Baldini? Guarda, non è un valore aggiunto, cioè, Baldini si nasce perché se ci diventi è peggio, capito? Ah, ok. Dunque, meglio rimanere come se... Ok, io, allora, eseguo il premio, dodicesima edizione, microfono d'oro. Era un indeciso se darmi questo o la supposta d'oro. Eccola qua, la facciamo vedere. Eccola qua, la facciamo vedere. Ecco sì, meglio che se è la supposta. Una volta che prendo un premio in vita mia, giustamente lo faccio vedere. Eccolo qua. Ecco qua. Lo metto accanto a quello della bocciofila che ho preso al centro anziani. Sempre modesto e umile. No, veramente, al centro anziani. Meritativi. A ballare tutte le domeniche sere. Perfetto. Grazie e un saluto a tutti i tuoi fan. Ciao, ciao. 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 Ciao.